È stato premiato anche il futuro, il pediatra, insomma, che cura i bambini. Lei è un'attività che fa da tanto. Sì, noi siamo pediatri, siamo un po' il medico della famiglia, diciamo, perché i bambini, in effetti, all'inizio non abbiamo un rapporto diretto col bambino, abbiamo un rapporto con tutta la famiglia e poi piano piano acquisiamo anche il rapporto col piccolino. Un premio importante che premia tanti anni di lavoro. Sì, un premio importante, sono contento perché il mio lavoro è diretto alle persone che stanno attraverso dei periodi non bellissimi, perciò il sapere che ho svolto il lavoro bene mi rende felice, sono contento. È un'azienda che sostiene da tanto il comitato. Sì, sono parecchi anni che sosteniamo il comitato, stiamo fieri di essere a fianco del signor Mordini, della sua famiglia, di tutti i suoi collaboratori che aiutano la comunità. Siamo molto onorati di questo impegno. Un premio particolare è stato dato quest'anno ad una persona, Don Mario, che si prende cura del malato e anche dei familiari. Sì, questa volta abbiamo fatto un'eccezione, uno strappo, però un bello strappo perché abbiamo avuto segnalazioni insomma da tante persone, ci hanno segnalato questo sacerdote che si dà da fare, che è sempre presente, che è a disposizione, quindi lo fa con tanta passione. La medicina ha guadagnato tantissimo rispetto alla salute delle persone. Il rischio di questa è di concentrarsi solo su un aspetto assolutamente molto piccolo della persona, ma la persona è molto di più. È una parte interiore di cui invece c'è un grande vantaggio nel curare questa parte, che facciamo tutti insieme, ecco perché assolutamente un infermiero o un medico poi non è che non prende carico di questa parte, però qualcuno che si occupa in modo più specialistico, più diretto, aiuta a far emergere anche risorse a sostenere, almeno come tentativo.